Bartolo Reina, chef 33enne, originario di Cisterna di Latina, è stato trovato morto nella sua abitazione a Sydney, Australia. La notizia della sua prematura scomparsa è giunta in Italia il 25 settembre, suscitando grande cordoglio nella comunità pontina che si è stretta attorno alla sua famiglia. Bartolo aveva scelto di trasferirsi in Oceania per inseguire la sua passione per la cucina e desiderava crescere professionalmente nel suo lavoro. Il datore di lavoro di Bartolo ha dato l'allerta dopo aver notato la sua assenza al ristorante e non essere riuscito a contattarlo telefonicamente. Purtroppo al suo arrivo i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Al momento non si sa se avesse problemi di salute, si sta valutando la possibilità di un'autopsia per chiarire le cause della morte. La salma di Bartolo verrà rimpatriata in Italia per i funerali. Sui social network numerosi messaggi di addio sono stati pubblicati da amici, colleghi e familiari che ricordano Bartolo come un ragazzo solare e ambizioso. Era sempre con il sorriso, ha scritto un conoscente, mentre un altro messaggio recita, se è vero che esistono gli angeli, tu sei uno di loro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.